Ciao ragazzi, a grande richiesta tornano gli esercizi di ginnastica e ritmica Con Mati, novità di questa seconda puntata, il cerchio A cui Vali ha dato anche un nome, è vero Ciao Lisa, che è la nostra amica ma anche il cerchio di Mati Dopo aver fatto un po' di stretching come abbiamo visto nell'episodio precedente Può cominciare la lezione Allora, primo faremo questo Oh, il lancio del cerchio, sembra facilissimo Il segreto è, guarda, ma fai con la mano piatta Ecco la mano piatta Vai, vediamo Mati che lo prende Adesso che la lancio Vai, lancia Ma cos'era? Il ritorno del cerchio Il ritorno del cerchio Devo provare Anch'io voglio provare Allora, prima la mamma Eh, ma Ale ti sei incastrata Era una pinta Wow Guarda, sembrava che avesse il lazzo Il braccio magnetico È così facile, hai visto fare da lei? Provateci anche voi ragazzi Si può fare un po' saltare mi pare Eh sì, così Bello, dai dammi ancora un tentativo Ce la posso fare Questo è semplice, il maneggio Semplice Semplice se parte E come fai a non perdere il cerchio? Ma guarda, la felicità Ma come fa? La stagletta Si Prova a farlo, Ale Sul poso? Il trucco No, praticamente Allora Sentiamo Dovete cercare di non farlo Girare Perché vi viene sul poso Ma lo dovete fare tra il pollice e l'indice Tra il pollice e l'indice Così Io prendo così Dall'avanti all'indietro Facile Facilissimo Hai visto? Ne fa tempo, lei guarda avanti Tranquilla, Beata Le guarda, mi sorridi No sul polso No sul polso Guarda, guarda che adesso sono giusta Brava Complimenti Te l'ho passato Eh What? Via Bravo Il nostro Il nostro ritmico Io e il cerchio Il cerchio è il mio miglior amico Bravo Abbiamo un futuro Grazie È il momento della camicia Che camicia Che cos'è? Ah Io come posso andare a venire La camicia è volata via Questo lo chiamo zainetto Come funziona? Allora Che gira anche Mati Adesso si rende difficile Brava È il momento della Tigre Tigre Non so se c'è il nome Perciò Ah è questo? È il salto della corda Ma è un cerchio Il salto del cerchio Che forza Sì E c'è anche una regola Qual è la regola? La devi mettere così Vediamo l'impugnatura Così E poi vedevo anche Che una gamba La tieni Bella alta Giusto? Eh se no Ti rimane bloccata Ah Adesso ho capito Non credo di riuscire a provarlo Col cerchio In lezione Prova È piccolina Ragazzi Se accelerate il video È praticamente La stessa cosa Che ha fatto Mati Con la stessa graffia Bene Il prossimo numero Mi sono messa Comoda Perché non credo Lo farò Il numero prevede La rotazione del cerchio E quando la rotazione finisce Si salta dentro il cerchio E si fa la ruota E si riprende il cerchio Perfetto Ma parliamo tecnicamente del cerchio Quanto deve essere grande Mati? Fino alla vita Oppure al fianco Tra la vita e il fianco Questa è la misura corretta E bisogna avere anche un copricerchio Eccolo qua Arriva ragazzi E il nastro sopra Si mette Si aggiunge Si arrotola Infatti quando Mati è arrivato a casa Mi sono chiesto Ma come? Il tuo cerchio è trasparente? Esatto Invece Cioè sì Si può personalizzare Abbiamo fatto giri 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 I bravi riescono a Non sormontare mai Un giro con l'altro È vero Non è facile Non sormontato E con suggerimento della maestra Vai Per farlo resistere un po' di più Abbiamo fatto anche un giro Con lo scotch trasparente Ma manca E' il tempo al finale Hai ragione Andiamo con la musica Si inizia con l'ingresso in pedana In pedana Arriva Matilde Adesso DJ Piace a play Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'abbraccio della mamma. E non può mancare l'evoluzione delle ruote. La scorsa volta abbiamo messo la ruota base. Questa volta la ruota con palla. La palla funziona d'appoggio. Perché con quella con una mano? Una mano. Grande. Dai, rivediamola. E la corda con la ruota. C'è la ruota con la fune. Si può fare la ruota con la fune. Non si dice corda. Ricordatevelo. Si dice fune. Si mette tipo sciarpina e dopo deve ristare. Con una mano e la fune. Incredibile. Ma prima di salutarci ragazzi, io voglio vedere come funziona il trucchetto del giro giro piede. Bellissimo. Cioè quello che hai fatto con il cerchio. Allora. Senza inciampate. Il cerchio finisce sopra. Sul collo del piede. E poi se non lo spinge si gira. Semplicissimo. Sì. E poi si salta a ritmo con l'altro piede. Allora lo provo anch'io. Vediamo. Aspetta eh. Cos'era quella cosa? Aspetta, aspetta. Era a partenza. Non è facile. E si dice anche la ruota con la palla d'autanistra. E come funziona? Allora. Brava Ale. Guarda mamma. La ruota. Uuuu. E' brava papà. Grandissima. Dovete sapere ragazzi che qua si inventano anche esercizi giorno dopo giorno. E se questi esercizi ragazzi e questo video vi è piaciuto mettete un pollicione. E non fate i quibiti sul divano con la fune. Ma iscrivetevi al canale YouTube GPR per non perdere i prossimi video. Ciao. Fermi tutti. Vi sono dimenticato all'esercizio. Non lasciate questo video ragazzi. 3, 2, 1. Ole. Oh un tuffo. Il tuffo del cerchio. E se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione. Sì ancora uno. Ma ce lo fai rivedere Mati? Ci serve il trucco. Qual è il trucco? Allora il trucco. Non farmi il giro e non farlo con due giri. Se no rischia magari di prendere in faccia. Quindi un giro solo. Vediamo. Piedi uniti. Ma anche così sulla testa. Lo devi lanciare sulla testa. Allora. Ciao. 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 Ciao.